Trofeo Orna Mobile 35esima edizione, il circolo tennis Baratov apre le sue porte ai talenti della zona, della regione Marche ma anche della vicina Romagna. È un torneo riservato praticamente alle giovani leve tennistiche e qui trovano praticamente lo spazio giusto per confrontarsi e capire chi, anche farci vedere, chi può avere poi la possibilità di andare oltre. Sono 35 anni di successi ininterrotti e di questo mi sento di dover ringraziare fortemente il nostro sponsor, amico Orna Mobile che da 35 anni ci segue regolarmente e ci supporta in tutto questo. Quest'anno è stata un'edizione un po' particolare perché normalmente questo torneo viene svonto a febbraio ma proprio perché volevamo dare spazio e far vedere a quanta più gente possibile il valore di questi ragazzi abbiamo pensato di spostarlo praticamente verso maggio in modo tale da farlo all'aperto, open. Giove Pluvio non è stato d'accordo con noi, anzi, e quindi ci ha costretto praticamente ancora una volta a farlo all'interno dei palloni però nonostante questo insomma mi sento di ringraziare il giudice arbitro, i ragazzi che hanno lavorato insieme al giudice arbitro, direttori di gara perché tutto poi si è svonto nel miglior modo possibile e nel tempo previsto insomma del torneo. Per la prima volta questo torneo praticamente fa parte di un circuito, Dallop, sono tre tappe, il nostro primo incontro, praticamente la prima tappa, sono tre tappe dopo il nostro ci sarà Tolentino e poi il Maggioni di San Benedetto. Il master finale all'interno di questo circuito praticamente verrà fatto al circuito di Porto San Giorgio quindi i ragazzi avranno più occasioni praticamente per incontrarsi, per formarsi anche perché poi insomma non solo dalla vittoria ma anche dalla sconfitta spesso nasce praticamente la voglia di rivanza e di competere insomma nel miglior modo possibile. Permettetemi di fare un applauso ai maestri delle varie scuole che hanno partecipato perché quello che è risultato oggi più che mai e vi garantisco che non è sempre così, c'è stata una partecipazione assolutamente competitiva al massimo ma correttissima da parte dei ragazzi. Ecco, sono tre le categorie coinvolte, Under 10, Under 12, Under 14, quanti ragazzi hanno partecipato a questo torneo? Anche quest'anno abbiamo sferato praticamente il centinaio di ragazzi presenti sul campo e di questi, ripeto, la qualità, credetemi, è stata davvero alta. Sei la vincitrice del torneo Under 12, di questo importantissimo torneo, come ti senti e quanto sei felice? Sono molto contenta di aver vinto questo torneo che ho fatto molti sacrifici per fare questo torneo e sono molto contenta. Sono appassionata di tennis perché un giorno ho provato quasi tutti gli sport e l'unico che mi ha colpito era questo, cioè con questa racchetta in mano piccolissima che non riuscivo a mandare la palla di là però piano piano ci riuscivo sempre e mi rendeva sempre più felice. Sei iscritto a questo torneo, fai parte del circolo tennis Baratov, quanta voglia, quanto desiderio hai di sfondare in questo sport? Sei ancora piccolo ma il pallino e l'obiettivo di diventare grande in questo sport ce l'hai già. Il mio sogno è diventare il numero uno del mondo e sono molto felice di essere qua in questo torneo e spero di vincerlo. Quanta dedizione e quanto impegno durante la settimana ci vuole per poter arrivare fino in finale? Molto impegno e ti devi allenare seriamente ogni giorno e anche duramente. È un torneo a Pesaro, nelle Marche, tu sei dell'Emilia Romagna, però non ci entrano i confini quando lo sport è la cosa più importante, il divertimento è al centro di tutto. Ti amo e piace sempre molto giocare qui a Pesaro, infatti gioco qui tornei da quando ho nove anni. E cosa ti spinge a giocare a tennis? Fare il professionista e poi è bellissimo. E la tua aspirazione qual è? Diventare il numero uno al mondo. Baratov Tennis Club è una realtà importantissima a livello territoriale, provinciale, regionale ma possiamo dire anche nazionale? Assolutamente, non solo nazionale ma anche internazionale, visto la figura di Luca Nardi che praticamente contraddistingue un po' la nostra scuola, insomma è, come posso dire, la caratterizza da un punto di vista qualitativo. Quello che contraddistingue il nostro essere è anche la scuola, è una top school e nelle Marche, credetemi ce ne sono poche insomma, se non pochissime scuole che possono freggiarsi di questa qualifica. Abbiamo dei maestri validissimi, una serie incredibile di professionisti che lavorano per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi, che va dal maestro di tennis fino al preparatore atletico, al mental coach e così via. Che struttura è la vostra? Quanti campi avete? Insomma, che servizi potete offrire? La nostra è una struttura completa, sono sette campi, cinque in terra rossa e due in sintetico. I due in sintetico sono destinati praticamente alla scuola, tennis che gestisce praticamente per conto proprio l'attività, perfettamente gestita dai proprietari della scuola, Francesco Sani che è anche il coach di Luca Nardi e Luca Pavoni che è il direttore della scuola, insomma, in toto insieme appunto a Francesco. Quest'anno direi con piacere, insomma, raggiungiamo la quota di 220 soci e di questo sono particolarmente contento, insomma, e credo e spero che sia ancora un movimento in crescita, insomma, visto anche il movimento stesso del tennis che cresce con tutti questi ragazzi italiani che si fanno apprezzare praticamente nei vari torni internazionali. Ecco, 220 soci di tutta l'età possiamo dire? Assolutamente sì. I nostri soci più attivi hanno un'età media di 85 anni e non è una battuta. In tennis allunga la vita veramente. E in più tutti i ragazzi della scuola che, come sai, insomma, dai sei anni in poi, insomma, anche prima, frequentano il nostro circolo. Annoveriamo e siamo fieri di avere con noi, sia a livello maschile che a livello femminile, serie A2, quindi due ottime squadre ad alti livelli. In Italia pochi club possono vantare di avere le prime due squadre, sia maschile che femminile, nella massima serie. Il discorso bambini è una cosa importante per dargli, diciamo, continuità e anche dargli un luogo, diciamo, sano. Abbiamo una scuola qui che funziona molto bene e mi auguro che vescano fuori altri campioni come sta uscendo Luca Nardi e tanti altri ragazzi giovani con tanta volontà.